musica 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 oh ancora qua forza andiamo dai oh raga forza aspetta come aspetta ci stanno aspettando forza andiamo non mi capitò niente allora devi aspettare e da mezz'ora che state qua e che sono tutti questi caffè? allora non ci siamo spiegati proprio collega fin quando qua continuiamo a vincere non ce ne andiamo regolando su tutti e com'è che si gioca? tu metti soldi se esce il caffè hai vinto e vai! dai 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 dai